bella raga oggi continuiamo con i nostri video di minecraft e siamo in un nuovo episodio di di exit ecco ok stavo laggando allora vediamo un po volo mettermi tipo full cloth full cloth farmer allora vediamo un po sta roba un secondo per vedere se ci dà qualche effetto speciale no però sembra molto figo sembra ok non protegge niente si è tipo l'armatura in pelle dovrebbe essere però roba tipo sotto le maniche sembra ah no era questo il coso p diamond spear ora vediamo un po prima di tutto mettiamo tutte le cose che non ci servono qua dopo faremo anche una cesta per le armature perché per le armi e l'armatura anzi direi farla proprio ora perché no una doppia cesta backpack no allora backpack ok ok mega doppia cesta no è normale però mega in questo metteremo tutte le spade le armature le cose varie la posizioniamo qui allora tutto queste cose shield le spade le tengo io poi tutte queste armature qua la nostra che tanto puggeremo ora per fare un mix di quelle che abbiamo noi cactus poi questa la cloth cosa ops no ah sta un po laggando allora mettiamo tutto qua e ora bam riordina ok allora visto che prendiamo questo feather falling tree questa questa protection 4 è dei cosi che in realtà la unica cercheremo di procurarci poi allora per gli archi sempre gli archi li mettiamo sempre qui ne ho un altro sì che ne ho un altro qua via riordina ottimo bro allora andiamo invece di qua di qua abbiamo da mettere i diamonds quindi tutte le essenze tutte le essenze questa se è una lampada decorativa dovrebbe essere la mettiamo di qua a fianco al nostro letto fancy lamp what's ah no aspetta ho sbagliato piazzando anzi la metto tipo qui si può mettere al soffitto sì ok molto fine tipo cosa tipo lampadario però qua non va bene la mettiamo di qua mi sembra molto epica qui ok quindi diamanti oro essenze poi grenade carseed bone eccetera 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 no questa va di qua riordina ok ora di qua mettiamo questa il ferro dall'altra ancient table poi cos'altro direi che può bastare così allora è rimasto del coal che lasciamo qui questo la cesta del cibo è questa mettiamo tutta questa roba qua ok e vai riordina poi prendiamo questa armatura facciamo riordinare di nuovo perché me ne sono accorto tardi e basta questo di qua questo legno lo teniamo per craftare i 50.000 così di books eccetera ok ora prendiamo tutti i 50.000 books che sono di qua e facciamo 50.000 libreria allora poi abbiamo un po' di stack ok 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 vediamo un po' a 12 ok ok le altre 3 vediamo un po' come ci sta qua mettiamo questo allora sono altre qui che peccato però per i miei 40 e passa livelli e vabbè già così dovrei essere a livello 50.000 però continuiamo a farle al massimo facciamo tutto pieno di libreria tanto non ci manca la roba ok ok no ops ci manca questa e abbiamo finito i libri ok tanto non serve ah no ne abbiamo un'altra stack ok sorry allora mettiamolo anche qui tanto sono superfluo di qua e le ultime due di qua qua sotto ah si perché no ok ah contano tipo legno vabbè blocchi di legno a tempo allora va bene quindi vediamo un po' volevamo fare un mega spadone super con uno spadone con un breaking e tutto quindi uno stick che non avevo no ok mega spadone diamond giant è veramente giant ok cosa max max enchantment oh l'apel 54 poteva aggiungerne altre forse allora sharpness 5 20 livelli dice giusti giusti vabbè lasciamo sharpness 5 fair aspect non lo metto non lo metto come tre looting manetta unbreaking dove è finita unbreaking eccolo qua sì per ora abbiamo solo sharpness 5 questo hookshot non si concentrare smith 5 frostbaw no quindi quindi ora cos'altro ci facciamo di diamante niente mettiamo tutto a posto e direi che possiamo cercare di fare allora vediamo se le string si possono craftare in qualche modo string power 3 wow allora ah sì l'avamo già visto col cottone niente quante ne abbiamo 3 3 e qui niente e quindi niente 0 possiamo farne allora mettiamo un po' mettiamo le cose a posto qua qua legno vabbè lo teniamo la spada via piccone qua backpack via pane arco hookshot ok è una scetta ok dovremmo essere a posto che ne dite andiamo alla ricerca di un altro dungeon perché no perché no stavolta andiamo verso quella parte che c'è molta roba figa ok stavo finendo fuori dal mondo aspettiamo che si scarichi un pochettino ma vediamo un po' lassù se c'è qualcosa no 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 ok quando stiamo cadendo colchiamo verso giù così così non perdiamo vita ah qua c'è la roba delle dimensional doors allora vediamo un altro pochettino di qua ah volevo andare a vedere quello sì il castello mega overpower dai carica di mondo ok io sono velocissima con queste cose ok ci stiamo proprio avvicinando allora qua cosa c'è ah è inksec prendiamolo perché il prossimo backpack volevo farlo a nero allora andiamo al super spadone sharpness 5 a fare un casino di danno spero dovrebbe essere tipo qua sopra eccolo sì è una specie di meglio castello ok vediamo un po' cosa c'è qui non l'ho mai visto questa struttura insieme da qua ecco sono finito nell'altro campo vabbè allora qua c'è oro prima di tutto lo possiamo ben vedere prendiamo tanto non fa mai ah no ecco fatto no 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 ecco ci sono casquette ci sono casquette come un pollo ma uno si aspettava che fosse uno cioè fosse un castello che che non aveva cosa oh 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 ciao signor zombie vuole essere one shotta da oh zio one shotta davvero tutti cosa c'è qui non vedo niente ah c'è un bello spawner di zombie piacere c'era un bello spawner di zombie allora togliamo prima di tutto quella gravel perché esce l'acqua e cado anche di qua vabbè vediamo un po' cosa c'è quassù un bel niente cesto voglio io non oro finto che poi mi fa cadere giù allora non mi serve un bel niente quindi fammi trovare cesto in fretta grazie però è molto bella come cosa come struttura ok non c'è un bel niente quindi dov'è il cosa ecco non lo vedo ok eccomi qua allora vediamo un po' cosa c'è qui gente blocchi di diamante di ferro allora io voglio andare lì a uccidere tutti ahia boom non boom oddio come mai sono morto come sono finito lì sono morto subito cosa è successo aspetta non ho capito bene non ci vedo chiaro ok ragazzi niente ho recuperato tutto metà era finita in acqua uno zombie aveva la mia mega spada boh non si capiva niente comunque credo che lì ci sia una specie di boom di trappola perché c'è un blocco di diamante è strano ci sia un blocco di diamante comunque vediamo un po' andiamo di vederci chi è qua c'è altra mia roba frecce ridammi le frecce ok allora scaviamolo di qua anzi andiamo a dei blocchi solidi ecco magari non mi crollano in faccia proprio qua potrebbe crollarmi qualcosa addosso no di se distruggo quello quello è quello ecco qua bastardo non mi freghi non mi freghi più Matteo ci casca una volta non due intanto Matteo si stila questo what tipo la mia roba boh deve essersi sdoppiata bagato ma bagato malissimo tipo comunque prendiamoci il cibo e Matteo non lo fai fesso perché una volta bene ci casco non lo conoscevo questo dungeon perché la voce c'era la voce dei castelli nella better dungeon mi sembra nella better dungeons che ah ho thorns suca però mi fa un casino di danno come fanno perché siete così potenti boh ahia questa thorns ahia mi uccide mi uccide perché ha thorns nel cosa era uno di quelli zombie speciali perché era speciale vediamo quanto thorns hai sei tu quello speciale no che non sei tu cioè qui no che non è lì ah allora è quella power ecco uffi però non riesco a recuperare vite ci metto tre quarti d'ora comunque volevo oggetti speciali ma non è solito è schifezze cioè schifezze diamanti eccolo sta arrivando qua lo scheletro ah no strano boh lo sento di qua andiamo a vedere qua lo zombie come è genio eccoti qua no 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 ecco vinco io adesso è finito fatti vedere no cliccato preso no 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 che tu mi butti giù e muoio soprattutto più che mi butti giù mi uccidi oh io oh io questa armatura fa schifo sono protetto pochissimo che vero la faccio diamante la prossima si è un diamant ok c'era anche quel cuore andiamo qui a fare stracce perché troppi troppi rumori sono qua dentro no? gli scemi no? senti versi ma? ah eccoli poesani zombie di sto cavolo ma morì malissimo cosa vuoi fare Aya? ma vuoi uccidere tutti ci stavi pure riuscendo aia dove è lo zombie cattivo eccolo morì male cane cane ecco fatto yes togli di neve ok che cos'ho? water breathing iron glaive focus 1 non ho idea di cosa faccia focus però focus giù no ma si ok si devo farmene ho argente bisogno di armatura più potente oddio 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 c'è altra gente qui, c'è un altro spoiler di gente non l'avevo visto, strano non c'è altro oro, ecco non mi trolli di nuovo forse è morto lo scheletro OP probabilmente si comunque c'è uno che sta morendo qua fuori ok morto morto che stava qui all'ombra come adesso si tornerò a casa è l'unica cosa da fare qua, non ho trovato niente di che torno a casa e mi sa che concludo anche l'episodio perché ok si è fatto tardi ok bravo il mondo, ti sei caricato ma cos'era quella roba? water ah che sono un pesce sì che figo tipo I'm a fish che buono ok perché respiravo sott'acqua tipo uno squid mi ha trasformato in uno squid l'armatura che avevo prima mi proteggeva molto di più ora me ne faccio una full diamond non posso forse sì no mi sembra di no comunque ci facciamo una nuova electric staff la incontriamo con un breaking tree se la metterò di qua allora sciocopedia vabbè chi se ne frega electric staff allora mi serve un diamond un magic essence e basta lo stick adesso lo crafto quindi allora di qua voglio magic essence stuff devo mettere la cosa electric essence ok dammi la staff electric essence fa una nuova electric staff ok enchantiamola con un breaking tree un breaking action ok dobbiamo una nuova electric staff quindi ora cos'altro abbiamo da fare facciamo un'armatura OP 50.000 diamanti usiamo tutti non mi farò più niente ma è così devo farmi un piccone nuovo facciamo un piccone in diamante o no sì allora facciamo il piccone perché comunque ci servirà e lo otteniamo nella cesta facciamo la chest plate e i gambali ok così dovrebbe si dovrebbe ragionare un pochettino di più ecco qua ottimo ne approfittiamo e metteremo anche un bell protection mi sa sì un bell protection alla cosa l'armatura infatti via via tutta cosa altra tutta questa roba la mettiamo di qua schifezze sì via via iron block ok lo teniamo vediamo un po' devo mettere un po' di protection qua protection 9 protection 4 14 va bene ancient dai protection 4 ora dovremmo essere troppissimo protetti solo di chest plate però e nel prossimo episodio vedremo un po' che fare anche per gli altri pezzi di armatura quindi grazie per la visione alla prossima puntata anzi devo farvi vedere il look shot cosa serve nello scorso episodio però me ne dimentico no non ci arriva dai eh è perché è quello base questo eh sì è proprio quello base questo poi c'è quattro di questi fanno un long shot si può anche craftare comunque si vi fa salire cosa così si può anche craftare con mi sembra sette pezzi di diamante un pezzo di non mi ricordo cosa comunque si può craftare ecco ecco porco cane lasciami cadere dai facciamo l'electric stuff che è molto più utile comunque ce lo terremo nell'inventario non ha durabilità e non è neanche non si può incertare quindi ci vediamo in un prossimo episodio grazie per la visione ciao a tutti grazie per la visione